ciao ragazzi benvenuti al video ci sono le scappette a differenza di nike watch e poi c'è un altro vaso infatti dopo la faccio vedere questo è nike watch faccio vedere di nuovo adesso usiamo le vanuzzi adesso vi faccio vedere i vanuzzi non sono comode si chiama vanuzziatvood e si compra a pittarosso invece in alcun assi si compra a foodlock a valese vabbè ciao ragazzi ci vediamo al prossimo nuovo video e fate 10 like e iscrivetevi al canale ciao 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 Grazie a tutti.